passiamo un altro jeans questo è il nove once come dicevo prima vi raccontavo delle once e quindi del peso questo è un nove once un jeans molto fresco leggero per l'estate e la cosa bella è che invece a differenza degli altri vi ho fatto vedere questo è un jeans un pochino più secco più tra virgolette rigido sebbene sia molto stretch e morbido ma è perfetto per queste vestibilità tipo in questo caso questo egg che ha la pants perché rimane un pochino più in forma e quindi noi lavoriamo spesso sulle costruzioni del jeans anche abbinati alle modellistiche perché lì che diciamo il jeans va adattato alla modellistica che andiamo a fare non viceversa questo nove once appunto fresco morbido leggermente più rigido in modo da mantenere la forma e mantenere soprattutto qui la pants